Belli broschiloschissimi, come state? Tutto bene? Innanzitutto buon anno, sì lo so, sarò l'ennesimo che vi rompe coglioni su questa cosa e mi son rotto il cazzo anch'io della gente, fortunatamente sono un po' all'estero, così che tante chiamate me ne sono perse dato che ho dovuto mettere un numero provvisorio però in ogni caso si sa, si arriva a fine anno e si dice wow, si guarda un attimo indietro se devo ripensare a questo canale, oltre alla musica, oltre alle altre cose che ho in serbo devo dire cazzo, cazzo perché sono riandato a vedere e sono arrivato a totalizzare, se contiamo anche Reels più di 100 video e questo vuol dire poco a livello di riscontro ma sta iniziando ad essere qualcosa e su questo sono stracontento, anche per mettermi in gioco io stesso e per confrontarmi di fronte a tante robe allora, quello che volevo farvi, non intrattenervi troppo con questi video tanto so che vi rompete coglioni anche voi però un attimo di mini prospettive per questo anno nuovo e vi dico, intanto in confronto a quello che è successo in quest'anno devo dire che si è davvero rivoluzionato il canale è diventato una cosa molto più attiva, anche molto più importante per me e vi ho fatto recensioni come al solito, unboxing, video scazzo, dove ci divertivamo insieme barzellette, sketch, scenate ho rintrodotto gameplay, questa roba delle reaction ci sono stati sempre delle recensioni, insomma vi ho parlato di tante tante robe oltre alle curiosità che vi ho mandato allora, non voglio farvi troppi papiere di cose che non so ancora bene come affronterò perché poi magari arriva l'idea ed è quella che cambia tutto ed è quella che poi ti porterà ad avere un'evoluzione anche in quello che voglio fare però vi dico che mi dovrebbe riconcentrarmi un attimo anche su questa cosa delle recensioni delle recensioni perché guardo tanti di quei film da finirci il cervello e vorrei parlarvene ad esempio ora come ora vi ho introdotto questa cosa dei film girati in Egitto mi caratterebbe, dato che ho questa televisione, guardare proprio giusto qualcosa anche rivedermele poi in Italia a modo capire e portarvi delle cose anche per venire incontro un pochino più agli usi di altri paesi sicché programmi che ad esempio qua fanno, film che qua trasmettono e può essere una cosa interessante ma soprattutto mi caratterebbe proprio appunto parlare tanto, 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 tanto di cinema e buttarmi su questo perché io sono sempre stato tanto dietro al teatro questa cosa forse non ve l'ho parlato troppo su questo canale ma proprio al momento in cui ho conosciuto il teatro per me mi ha chiamato il mondo quando mi sono un attimo staccato quindi ho cercato di fare subito le cose un po' improprio mi sono buttato di fronte a una telecamere e a raccontarmi ogni giorno ed è quello che faccio tutt'oggi essenzialmente e forse sto iniziando a capire anche io stesso che il bello di questo canale è l'improvvisazione il creare delle idee e buttarle fuori quindi mi sento semplicemente di dire che ci avvicineremo molto più al mondo del cinema anche se non mancheranno ovviamente contenuti di tanti altri tipi e soprattutto l'incentivo che do a me stesso è cercare di fare ogni anno sempre più di quello che si è fatto l'anno precedente questo canale ha avuto dei momenti un po' di alto e basso non sono il tipo che gira gli amici e gli amici per dire è uscito il video, metterlo a vedere se che a livello di riscontro appunto mi baso semplicemente sulle persone che magari digitano e tac, azzeccano il video se che purtroppo ci sono video più fortunati ed altri no quindi adesso mi baso su un pubblico molto 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 alto e davanti come l'ho stato all'inizio del canale anche se ha avuto magari i suoi periodi un pochino più di esordio dove sono arrivati più iscritti diciamo anche che youtube era molto più sotto gli occhi di tutti adesso con questa cosa dei reels c'è anche più la possibilità di mettersi in gioco come qualcosa semplice e di impatto il livello dell'attenzione cala anche di chi era abituato prima a vedersi video molto più lunghi ma questa è una cosa che in realtà decido di trattenere io stesso anche perché insomma se ci si appassiona veramente a un modo che ha uno youtuber di parlare lo sia anche il piacere di seguirlo in tutte le avventure che fa e che avrà solo che quest'anno veramente ho ripreso in mano tanto il canale quindi vi dico che semplicemente come sempre sarà l'inizio di qualcosa di nuovo e soprattutto più grande nonostante tutto sai che possiamo farlo e non ci avranno mai perché ci sentiamo impression vi lascio con questa magica vista perché stasera ci andremo a divertire un pochino tutti quanti sicché vi dico belli ragazzi spero che quest'anno vi divertiate anche voi e che lo faremo in parte in una piccolissima parte insieme vi voglio bene a tutti vi voglio bene a tutti